Chateau Dax, l'unica con i tripli saldi, 50 più 10 più 10% L'unica che puoi acquistare in 10 rate a tasso zero Divano Greg, da 1726 a 699 euro Parete Street, da 3945 a 1597 euro Mobili Cucina Portofino, da 6568 a 3284 euro Letto, completo di rete ortopedica con movimento comodo per rifarlo senza fatica Materasso in Memor Dax, due guanciali e completo parour da 4194 a 1698 euro Chateau Dax, l'unica che ti offre 10 anni di assistenza garantita Sugli imprevisti che possono succedere alla tua casa e sugli arredi acquistati Avrai una squadra di pronto intervento a tua disposizione Per arredare la tua casa, scegli i tripli saldi Chateau Dax Trasporto e montaggio gratuito fino a domenica Chateau Dax, l'unica Chateau Dax, l'unica che ti offre 10 anni di assistenza